Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV L'informazione locale Grave incidente sulla statale 16 Frontale tra due auto Un settantenne portato ad Ancona Il punto è sempre lo stesso All'altezza di Metaurilia Parco mira il fiore di pesaro Sempre sotto scacco Degli spacciatori Blitz della Guardia di Finanza Piano regolatore di Fanno La Lega accusa la maggioranza di ostruzionismo Non vogliono farci vedere la bozza Dicono i consiglieri leghisti Quartiere San Lazaro I cittadini protestano Per le strade ridotte un colabrodo E pericolose per gli anziani Gastroenterologia Marche Nord Nuovi macchinari a disposizione del reparto Frutto di una donazione privata Buonasera Benvenuti a Occhio alla Notizia Ci apriamo con la cronaca Che purtroppo registra un altro grave incidente a Metaurilia Frontale tra due auto Un anziano è stato trasportato questa mattina In eleambulanza al Torrette di Ancona I fatti e gli accadimenti di questa mattina Schianto frontale tra due auto sulla statale adriatica sud a Metaurilia di Fanno Il luogo in cui è avvenuto l'incidente è in cima alla lista nera dei punti di Fanno Dove si verificano gli incidenti più gravi in assoluto Questa mattina lo schianto è avvenuto poco dopo le 7.30 Due le auto coinvolte Un'utilitaria di marca Hyundai guidata da un settantenne Alfio Anniballi Sposato, tre figlie Che abita a 20 metri dal punto dello schianto E una Land Rover condotta da una donna di 40 anni di Fanno Nell'urto frontale tra le due auto La peggio è andata al settantenne Che per l'impatto violentissimo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo Ed è stato trovato dai soccorritori riverso sull'asfalto Ai quali l'uomo avrebbe subito detto di non avere più la sensibilità alle gambe Data l'età dell'uomo e le lesioni riportate Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza Attivata dai sanitari del 118 Che ha trasportato il ferito ad Ancona La dinamica dell'incidente è piuttosto complessa È al vaglio della polizia locale di Fanno Intervenuta sul posto con due pattuglie Una per i rilievi ed un'altra per regolamentare il traffico Data l'ora piuttosto intenso Soprattutto in direzione nord Dai primi rilievi sembrerebbe che Anniballi appena uscito di casa Si è messo sulla statale svoltando a sinistra verso Fanno Quando è stato centrato sulla parte sinistra anteriore dalla Land Rover Che procedeva in direzione Marotta E che per effetto del testa coda Le due auto si siano urtate anche una seconda volta Come mostrano le tracce di vernice presenti sulla carrozzeria Arrivati sul posto anche due mezzi dei vigi del fuoco da Fanno Per mettere in sicurezza l'area E le auto danneggiate Oltre che i tecnici dell'ANAS Anche la donna al volante del SUV È ricorsa alle cure dei sanitari Per lesioni non gravi Ed è stata portata per accertamenti All'ospedale Santa Croce Mentre l'uomo è stato ricoverato All'ospedale regionale Torrette di Ancona E la prognosi al momento resta riservata Ma il tributo della famiglia Anniballi su questa strada è pesante Perché oltre una trentina di anni fa morì il padre Oddo Travolto in sella al suo motorino Aveva ironia della sorte Anche lui 70 anni al momento dell'incidente Mentre 500 metri più avanti verso Fanno Ancora prima morì lo zio suo Da parte di madre Nazareno Cecchini All'epoca quarantenne Inutile dire che quest'ultimo tragico incidente Sempre nello stesso tratto di strada Ha riacceso gli animi dei residenti Stanchi della lunga scia di sangue Lasciata qui ed esasperati Dall'immobilismo delle parti interessate ANAS comune Nonostante gli innumerevoli appelli fatti Ora più che mai chiedono Che questo tratto di statale Sia reso immediatamente più sicuro Per evitare altre tragedie E speriamo che si faccia presto Ci hanno detto questa mattina i residenti sul posto Insomma perché veramente Qualcuno di loro ci ha detto Che praticamente sono pochissime le famiglie indenni Da essere coinvolte in incidenti sulla strada Proprio in quel punto Bene, cambiamo argomento Parliamo della Guardia di Finanza Parliamo del Parco Miralfiore Sempre attenzionato alle forze dell'ordine Per il problema dello spaccio e della droga Ulteriore e un altro blitz della Guardia di Finanza Sentiamo tutto nel servizio di Francesco Salvago Gli interventi delle fiamme gialle Presso le principali aree di abbandono Della città di Pesaro Tra cui la zona verde del Parco Miralfiore E quelle limitrofe alla stazione ferroviaria Hanno identificato degli spacciatori Che alla vista dei militari Sono scappati scavalcando la ricinzione del parco Utilizzando i buchi nella rete Precedentemente creati Per consentire loro una rapida ritirata Abbandonando sul posto La sostanza stupefacente L'esperienza dei finanzieri Unita al sensibile ed efficiente Fiuto del cane Ebro Unità cinofila In carico alla Compagnia di Pesaro Ha consentito di scovare Sottoporre a sequestro Diverse dosi di marijuana Eroina e cocaina Per un totale di 60 grammi Contenuti in involucri di cellofan Ben confezionati e nascosti tra gli arbusti Già pronti per essere venduti Per il consumo personale Dalle indagini è emerso il rinvenimento Anche di elementi utili Alla miscelazione di sostanza per endovena Composti da bicarbonato di sodio Un bilancino di precisione Ed un cucchiaio Le attività investigative sono ancora in corso E andiamo all'aeroporto di Ancona Perché è scaturita da un'informativa Di reato della Guardia di Finanza L'inchiesta della Procura di Ancona Sulle erogazioni di finanziamenti Ad Aerdorica Società gestione dell'aeroporto delle Marche Con 78 indagati Tra cui gli ultimi tre presidenti Della regione Marche e assessori Lo precisa un comunicato Della stessa Procura Spiegando che l'informativa di reato Riguarda la complessiva erogazione Dei finanziamenti in favore della società Informativa che a sua volta Costituisce uno sviluppo complementare Rispetto a precedenti attività investigative Che hanno condotto a processi conclusi E tuttora in corso Nonché alla formulazione di un'istanza Di fallimento della società Sono in corso le doverose indagini Prosegue la nota della Procura Che saranno svolte nei tempi più brevi Compatibili con gli accertamenti finalizzati A verificare la fondatezza Delle ipotesi accusatorie E l'eventuale riconducibilità Soggettiva della stessa Tenuto anche conto Della presenza di organi collegiali Ritorniamo a Fano Parliamo di piano regolatore La Lega a questo riguardo Sentite alcune indiscrezioni Ha chiesto un accesso agli atti E di vedere una bozza Che sarebbe stata fatta vedere Ad altri consiglieri Però non ha ricevuto una risposta positiva Sentiamo Per una comunità Il piano regolatore generale della città Rappresenta la direttrice La strada che si vuole percorrere Dimostra che visione E che programmazione della città futura Che i governanti in carica Hanno in mente di sviluppare Il piano regolatore è un atto importante Per un'amministrazione Forse il più importante Che si può produrre E che incide fortemente Sul tessuto cittadino Sullo sviluppo Sulla crescita economica e sociale Ecco perché quando si tocca questo tasto I fili si scoprono E gli animi si scaldano Per le parti politiche Perché la posta in gioco È pesante E da questa cruna d'ago Così importante Presto sarà chiamata Anche l'amministrazione seria A passare Che nel primo mandato L'aveva in realtà sfangata E non era stata in grado Di produrre A fine corsa Un documento condiviso Ma ormai I tempi sono maturi Anche sulla stampa Paiono i primi flash Sull'argomento Con indiscrezioni Lanci in avanti Fughe di notizie Più o meno confermate Palazzetto nuovo Zona di Chiaruccia Viabilità verso nord Direzione Pesaro Stadio nuovo Con annessi e connessi Il bubone poi Della zona dello zuccherificio Dove è stata anche Interpellata la cittadinanza Ma del quale Che sia il destino Di quell'area Ancora nessuno lo sa Di certo C'è che al momento È un'altra pessima Cartolina da Fano Perché arriva da sud Ma che certamente Sarà oggetto Del nuovo piano regolatore Tanta carne al fuoco Insomma Che soprattutto Le opposizioni Man mano che si avvicina La scadenza Vorrebbero conoscere Come la Lega Appunto Che intercettate Alcune indiscrezioni Su alcune aree E saputo Che una bozza Del piano regolatore Prossimo futuro È stata mostrata Ai consiglieri Di maggioranza Nei giorni scorsi Ha voluto capirci qualcosa E hanno fatto Un accesso agli atti Ma senza Ricavarne un granché In una riunione Che è legittima Ci mancherebbe altro La maggioranza Deve pianificare E deve farlo sicuramente Senza far sapere Cosa vuol fare La minoranza Sta qui proprio il punto Si sono visti E gli è stato fatto vedere E hanno dibattuto Su questa bozza Su questo canovaccio Di piano regolatore E parrebbe anche Che per motivi Che per noi sono ignoti Solo per qualche virgola Non gli sia stato consegnato Perché c'era proprio l'idea Di renderlo pubblico Quindi Alcuni consiglieri comunali Sanno Di che cosa Si sta parlando Sui giornali E qual è l'idea Che l'amministrazione Ha della città Alcuni consiglieri I più sfortunati Quelli di minoranza Purtroppo Non sono messi Nelle condizioni Di ricevere Gli stessi documenti Ci sono dei punti Che sono trappelati Che eventualmente Non vi piacciono Non vi stanno bene Bisognerà vedere Poi Diciamo così Il progetto urbanistico Di utilizzo Del suolo pubblico Perché se noi Vogliamo fare Un fantomatico PRG Che poi non è un PRG Ma è una maxi Variante A firma seri Senza utilizzare Senza gravare Il carico urbanistico Della nostra città Significa che quella Sul Cioè quella superficie Commerciale Sportiva Che io vada a realizzare In una zona La devo togliere Da un'altra parte E noi vorremmo capire Dove veramente Andranno a parare Per riuscire a fare Una cosa del genere Senza E noi di questo Ci auguriamo Che vengano tolti Aree Ad esempio commerciali Dai terreni pubblici Ma siamo sicuri Che questo non accadrà mai Dai terreni comunali Per darli Ai terreni privati Così aprendo Alla speculazione In modo veramente importante E proprio a riguardo Di queste considerazioni Che ha fatto la Lega Questa mattina È arrivata In queste ore Una nota Da parte Dell'amministrazione Comunale Polemiche inutili Così il vice sindaco E assessore All'urbanistica Cristian Fanesi Giudica Gli attacchi Ricevuti dalla Lega In merito Al mancato accesso Agli atti Sul documento Con gli indirizzi Del nuovo piano regolatore Il documento Precisa Fanesi Non è stato consegnato Alla Lega Semplicemente Perché non è Un documento ufficiale Tant'è che Non lo hanno visionato Nella sua interezza Nemmeno la maggioranza E non è stato approvato Dalla Giunta Nonostante questo Però Nessuno ha vietato Alla Lega Dice Fanesi Di consultarlo In quanto Gli uffici competenti Con una lettera Inviata Il 21 gennaio Hanno informato I consiglieri Del Carroccio Che il documento Era consultabile Presso gli uffici Dell'urbanistica E allora Diamo spazio Come spesso facciamo In questo telegiornale Alle vostre Segnalazioni Andiamo Con i residenti Del quartiere Di San Lazzaro In una serie Di strade Un dedalo di strade Che versa Veramente In pessime Condizioni Guardate L'attenzione Mediatica E gli interventi Nel quartiere Di Sant'Orso Con la nuova ciclabile La ridisegnazione Di tutta la viabilità Compresi i prossimi Interventi Il nuovo skatepark E sul fronte Della sicurezza L'installazione Delle telecamere Per la videosorveglianza Hanno risvegliato Gli animi Ma anche I mal di pancia Dei residenti Di altri quartieri Che da tempo Chiedono Se non gli stessi Anche altri interventi All'amministrazione Comunale Ma che di fatto Ad oggi Risultano Totalmente Inascoltati Stiamo parlando Del popoloso Quartiere di San Lazzaro E delle traverse Laterali Di via del Ponte Di fronte Alla chiesa Gran Madre di Dio Via Bianchini E via Gian Santi Queste due strade Molto praticate Quotidianamente Hanno il manto stradale Completamente Sfaldato Dal tempo In molteplici punti E segnaletica Orizzontale Praticamente Inesistente Ormai Non si notano Più nemmeno Le vecchie tracce Cosa che Agli incroci Rappresenta Un serio pericolo Per la circolazione Oltre che In caso di pioggia Trasformare la zona In un vero e proprio Acquitrino Il fondo stradale Disse stato Non è solo Un pericolo Per le automobili Ma anche E soprattutto Per chi si muove A piedi In questi fabbricati Ci sono molti anziani Che quotidianamente Fanno Quei 200 metri Che li separano Dal centro commerciale E che diverse volte Sono caduti O inciampato A causa Del fondo sconnesso Cosa poi Che si complica Ulteriormente Nel caso in cui Qualcuno di loro Usi un deambulatore A rotelle Per forza Lo devo usare Però Se fosse la strada Migliore Cammino meglio Sarebbe un po' meglio Sì Quante volte lo usa Quante volte ne usa Adesso Un po' freddo Allora Un po' meno Ma però Sì Andare in chiesa Al supermercato E fa un po' fatica Sì Perché Lo va tutto Storto Trava tutte le buche Ma oltre a questo annuoso problema I cittadini vorrebbero che Un ampio spazio verde Un tempo Campetto Da calcio Frequentatissimo Presente Nel quartiere Fosse riconvertito E riqualificato A spazio pubblico Per possessori Di cani Con uno Sgambattoio Recintato Magari come avvenuto A Fano 2 E dotato di strutture Per tutti E sul fronte Della sicurezza Di un impianto Di illuminazione Per scoraggiare Per così dire I malintenzionati Ci piacerebbe Che venisse Sistemato Mettendo Dei cancelli E sistemando Anche laggiù Una rete Quindi Mettere Praticamente Dei giochi Per bimbi Delle panchine Magari Anche perché poi Con l'arrivo Della buona stagione Praticamente potrebbe essere Lo spazio Usufruibile Da tutti Bene Cambiamo argomento Parliamo di sanità Sanità pubblica Marche Nord E andiamo nel reparto Di gastroenterologia Dove sono arrivate Nuove macchine Nuovi macchinari Per la diagnostica E per la cura Di patologie Legate all'apparato Gastrodigerente Sentiamo che cosa E come Questo strumento Permette di studiare Direttamente la mucosa Il reparto di gastroenterologia Dell'azienda ospedaliera Marche Nord Si arricchisce Di nuovi sistemi avanzati Per la diagnosi E la cura Di patologie Che colpiscono Gli organi Dell'apparato digerente Grazie a Riviera Banca Credito cooperativo Di Rimini E Gradara L'azienda ospedaliere Ha acquisito Parecchiature Diagnostico-terapeutiche Composte da Un enteroscopio Un ecografo Per endoscopia Un elettrobisturi Ed un manometro Ad alta risoluzione Secondo il direttore Dell'unità operativa Del reparto Antonella Scarcelli I vantaggi Per il paziente Con l'utilizzo Dei nuovi sistemi Saranno notevoli In quanto si andrà Ad agevolare La fase Della diagnosi Sarà possibile Dice Esplorare direttamente L'organo Senza la necessità Di intervenire Chirurgicamente Sul paziente Con la possibilità Di diagnosticare Curare patologie Come i sanguinamenti La poliposi Tumori del piccolo intestino Malattie infiammatorie E la celiachia complicata Gli strumenti Sono già disponibili E in uso Per i pazienti Il 2019 Ha eseguito 814 ricoveri Quindi era gente Che prima Andava fuori E come prestazioni Di endoscopia digestiva Penso che Non siamo indietro A nessuno Ha eseguito Praticamente Quasi 14.000 prestazioni Soddisfatto Il presidente Della regione Marche Per l'importante Contributo Che in questi anni Le aziende Hanno potuto investire In nuove tecnologie Il governatore Ha sottolineato L'importanza Delle donazioni Che vanno a completare Gli investimenti pubblici Orgoglioso anche Il presidente Di Riviera Banca Di contribuire Al sistema Sanitario Regionale È stato Un lavoro Abbastanza difficile Ci abbiamo lavorato Casi due anni Però ci siamo riusciti Con grossa soddisfazione Perché effettivamente È un macchinario Che serviva Alla città di Pesaro E a tutti i cittadini E questo dimostra Ancora una volta La nostra sensibilità Verso Quello che Il territorio Bene Siamo arrivati in fondo A questa edizione Del telegiornale Dopo di noi Ci sarà uno speciale Dedicato proprio Alla notte Del liceo classico Notte del liceo classico Nel quale è stato coinvolto Anche il liceo Nolfi A Polloni E nello speciale Vedrete tutto quello Che più o meno È successo In quella nottata Di venerdì scorso Benissimo Grazie per essere stati In nostra compagnia L'informazione Torna domani mattina Alle 7 Con Occhio ai giornali Ma questo numero È sempre a vostra disposizione Per entrare in contatto Con la nostra redazione Grazie Arrivederci E buon proseguimento Con i nostri programmi Con i nostri programmi Con i nostri programmi